La rapidità con la quale il condottiero Antonio Conte, come lo ha ribattezzato il presidente della FIGCittà Vecchio, si è calato nei panni di commissario tecnico e della nazionale in quelli di una squadra a sua immagine, ha davvero del sorprendente. Tre soli giorni per allenare la squadra, dieci minuti in tutto per l'1-2 che ha steso una delle nazionali rivelazioni del torneo brasiliano. Di storico il risultato di Bari ha il superamento del tabù della vittoria all'esordio di un CT, mancava dal secolo scorso per l'esattezza da 16 anni con Dino Zoff. Di confortante, al netto delle numerose assenze azzurre e anche olandesi, il piglio con il quale l'Italia si è scrollata ridosso le paure e le ruggini di un passato recente da incubo. Bari ha intuito che sarebbe stata una serata sì, ha risposto con entusiasmo prima e ha acclamato da subito Conte, idolo della promozione in A del 2010. Lui ha ricambiato con un applauso il tempo di una foto con i bambini sotto le decine di flash, e poi sotto con la sua ora e mezza di trans agonistica. Tutto il tempo a passeggiare nervoso davanti alla panchina, a sbracciarsi per dare indicazioni ai suoi in campo, anche quando aveva già abbracciato per due volte il suo secondo, per i gol prima di Immobile al terzo del primo tempo e poi di De Rossi al decimo. Scontato per quanto riguarda l'assetto tattico in campo, il 3-5-2 con un Ranocchia rigenerato al lato di Bonucci Astori a sinistra, e poi Darmian e Di Sciglio Ali in fase offensiva e Terzini sulla linea, e 5 in fase di non possesso palla. Insomma, Italia è e basta, non ci vuole molto a mandare in crisi gli olandesi con i 50.000 del San Nicola, che alla mezz'ora intonano il coro Antonio Conte, ricambiati da un nuovo applauso. Poi il CT continua a sbracciarsi fino al fischio di chiusura, il primo a sapere che la vittoria più che importante è l'unica cosa che conta. L'Italia che ha in mente è lontana, eppure sembra già in embrione. La ripartenza è giusta, la strada è ancora lunga.